Buonasera Buonasera Io di solito sono molto amante della Svizzera perché mi ha dato un sacco di indicazioni letterarie che poi ho seguito perché Federico Inderman è svizzero, Durematt è svizzero, Casagrande che è l'editore di Bellinzone è svizzero e quindi tutte le volte che vengo in Svizzera io dico sempre due o tre cose e gli spettacoli cominciano alle otto e mezza che è una cosa ideale e cominciano veramente alle otto e mezza perché se non arrivi alle otto e mezza trovi chiuso il teatro e stai fuori questo è un segno di grande civiltà e quindi io ho dato tutto a questa situazione quindi spesso non vengo in Svizzera Ho capito, la Svizzera che poi si percepisce da fidenza o sbaglio quando tira vento le Alpi si vedono bene Noi vediamo addirittura gli studi di RS1 ci teniamo tanto perché abbiamo un sistema di specchi che ci consente di vedere la tua trasmissione non la vediamo dalla tela, la vediamo dal vivo La vedete direttamente dal vivo con un sistema di specchi Ecco qua si dice che si vede la Madunina di Milano Noi invece vediamo te, Damiano Ho capito Allora, Gene Gnocchi, da dove partiamo? Anzi, con quale alter ego? Io pensavo all'eremita che è il simbolo della solitudine Perché questa scelta? Perché mi piace, la solitudine mi piace, mi intriga, sto bene da solo e mi piace Però per lavoro alla fine uno deve fare i conti con tanta gente Questi, certo, è un lavoro però se non devo lavorare mi piace stare da solo Ed è da solo che pensa ai suoi progetti? No, di solito penso nella confusione, però mi piace andare a mangiare da solo fare delle cose da solo, mi piace, anche se lo faccio da solo Allora, non è l'unico Allora, il dado è lì, partiamo Questa è una bella cosa Allora, partiamo con il dado Vediamo l'eremita Un po' blasfemo Quattro Uno, due, tre e quattro Le vittorie Si ricorda di voltare la guerra Allora, le vittorie Quante vittorie per Gene Gnocchi I teatri, mi hanno detto, sono spesso pieni Ma qual è stato forse il primo spettacolo dove Non so se aveva già lo pseudonimo, cioè il nome d'arte Gene Gnocchi, perché poi Eugenio Ghiozzi Quando è la prima volta andato in scena, i primi applausi dice Eh, questa è un'ipotesi di vita, posso farlo come mestiere Lei che poi ha studiato da avvocato e che è avvocato Sì, il primo spettacolo è uno spettacolo che io ho presentato allo ZEI Si titolava Diventare Torero Ed è la storia di uno che diventa torero Facendo il corso della scuola radio elettra di Torino Gli mandano le banderillias Gli mandano tutti il vestito da torero Ma non gli mandano il toro E lui prova le banderillias su sua nonna E la fa facendola girare per casa Con un drappo rosso Le fa fare il toro praticamente E facendo questo piccolo cosa ho visto che c'era un interesse Dicevano, questo è veramente un coglione vero Quindi, e da lì sono partito Quindi direi che la mia prima vittoria è stata Nel proporre una cosa un po' inconsueta E che ha incontrato poi l'interesse del pubblico Era già avvocato? Sì, come no Assolutamente sì I genitori come l'hanno presa? Lascia una carriera così, quella dell'avvocato per andare Guarda, mio padre non c'era già più Se ne era andato era morto Mia madre e mia suocera perché ero già sposato All'unisono tutte le volte che uscivo di casa Per andare a fare uno spettacolo Diceva, dove vai a fare il coglione stasera? E questo era il clima che si respirava in famiglia Poi alla fine Quando sono arrivati i primi soldi Ho sistemato Ho pagato il dentista di mia madre Il dentista di mia suocera Allora hanno cominciato a capire Che forse era una cosa remunerativa E non mi hanno più rotto le scatole Poi è andata bene Sì, è andata abbastanza bene Sfruttando poi quel mondo di provincia Perché Fidenza città ha 25 mila abitanti Si potrebbe dire una città di provincia Anche se poi magari parlare di provincia oggi non ha più senso Tutto è connesso, tutto è in rete Assolutamente non ha più senso Negli anni 60 Quando è cresciuto da ragazzino La provincia contava Era ancora provincia Quanto ha contato quel mondo di provincia Nella costruzione della comicità di Genegnocchi? Ma ha contato tanto Perché la provincia ti consente Diciamo degli spazi Che probabilmente la città non ti dà Quindi tu in provincia Hai la possibilità In provincia poi ci sono molto spesso le macchiette Che sono personaggi che circolano per la città E che sono immediatamente riconoscibili E che ti danno molti spunti Molto materiale Quindi c'è quello che è gelosissimo della propria moglie Che viene riconosciuto come tale C'è quello che è un indefesso lavoratore E quindi tu prendendo a prestito Da questi tanti piccoli personaggi Riesci a costruire anche un tuo mondo Non solo esteriore Ma anche interiore Che ti serve tantissimo Ma l'omologazione ha appiattito quest'umanità Piacente colore o no? Secondo me tantissimo Assolutamente tantissimo Tocchi un tasto che per me è molto doloroso Perché io mi sono separato Adesso vivo a Faenza Torno spesso a Fidenza E devo dire che la trovo sempre più spenta Sempre meno colorata Bravo Hai detto la parola giusta Io chiuderei qui Dopo colorata Di meglio non si può dire Allora la chiudiamo qui Con questa casella Però andiamo avanti A casa No rimanga qui Rimanga qui Faccio un altro dado Ok Tre Uno Due Tre Il nido d'amore Uste Il nido d'amore Allora A chi dedica questa casella? Beh Io adesso faccio il toy boy Quindi sono In questo momento Sono il toy boy di Tina Cipollari E quindi Sono affezionato a lei Però sono stato toy boy Delle gemelle Kessler Di Vilma De Angelis Charlize Theron Diciamo che non ho voluto Non ho voluto Perché mi sembra un tipo un po' freddo Io ho bisogno di gente un po' Cioè Vilma De Angelis Per dire Mi frusta con il frustino Per Sì per fare la maionese Quindi per me Sono cose che a me piace Questa ruspantezza Diciamo nel rapporto intimo Mi piace Ma c'è l'installante Diceva Gettador Queste cose Sì ma ha detto Gettador Infatti da lì viene il profumo Viene il profumo Sì Bene Andiamo ora Andiamo ora Facciamo un sì Alla mano cara Uno Due Tre Quattro Cinque Ci arrivo Ecco Siamo sulla libreria Vabbè Allora abbiamo parlato già di Duremat Di E di Indermann Federico Indermann Anche Max Frisch non era male Ecco Come no E ce ne sono Allora noi Anche Orelli Orelli Giorgio E Giovanni È informatissimo Non è che sono informatissimo Sono appassionato di Svizzera E di autori svizzeri Ma i libri di Casagrande Come sono arrivati in mano I libri di Casagrande Sono arrivati Perché me li ha fatti conoscere Un mio amico poeta Che è Fabio Pusterla Mi ha detto Prova a leggere queste cose E li ho trovati subito Dei libri deliziosi Vabbè A questo punto Me l'ha chiamato Fabio Pusterla Noi abbiamo Una poesia di Fabio Pusterla Che è stata letta È breve Ma la vogliamo ascoltare Ma come no Magari l'ha già letta Magari La metto alla prova Non siamo in un quiz Tanto male Solenne Poi due bottiglie di vino Taccio invece di te Della tua foto Nascosta fra i documenti Annuisce contento Mi crede sano Ecco Questa è la concessione all'inverno Di Pusterla È un film troppo facile Forse No È il suo secondo libro Credo che il primo fosse Concessione all'inverno Raccoglie le sue prime opere poetiche Le sue prime opere poetiche Sì E questo ce l'ha Complimenti Devo dire Mi fa piacere Mi fa piacere Perché è una cosa Che amo profondamente E mi fa piacere Poterlo anche dire qui Una bella poesia Dice Sono Aldo Gagnere Dichiaro tutto Però Taccio la fotografia Questo intimo mio Non te lo voglio rivelare Quindi rimane mio Ma il comico È concesso Di non rilevare Il proprio intimo Oppure Quando va in scena Deve confessare Tutto se stesso No Assolutamente Il comico Non confessa mai Tutto se stesso Però In quello che fa C'è molto di suo Quindi c'è quasi Diciamo Il 99% Di suo Rimane sempre Quell'1% Che ti consente Poi di andare avanti Perché È chiaro Che non puoi esternare tutto Però Nel lavoro Quotidiano del comico C'è tanto Tanto di autobiografico Tanto di autobiografico Anche se poi Siamo nel campo Dell'inverificabilità Con l'autobiografia Assolutamente Ma Tanti Allora Genniocchi Non se ne può più Dalla definizione Il comico dell'assurdo Perché Non se ne può più Il surreale Il surreale Però dicono Il comico intellettuale C'è chi ha detto Questa cosa È sbagliatissimo È sbagliatissimo Anche questo Sì Ma è sbagliato Perché I veri intellettuali Non siamo noi Io I veri intellettuali Li ho conosciuti Ho conosciuto Luciano Anceschi Quello dei Novissimi Ho conosciuto Alessandro Serra Che sono veramente Veri intellettuali Noi siamo Gente Un po' informata Che ha delle passioni Come appunto La poesia Ma niente più di questo Però di sicuro Lei si smarca Un po' Da alcuni filoni Comici Penso a quelli Che la buttano Sempre Sulla Per esempio Giochi di parole Oppure sulla parolaccia Oppure sulle imitazioni Gene Giochi Non voglio dire Che sia intellettuale Perché lei mi dice Non sono Non intellettuale Però Si fa anche Editorialismo Voglio dire Facendo Ridere Si parla Dei problemi Anche Di questo mondo C'è chi ha detto La comicità Di Gene Giochi È un grido Di disperazione Per una realtà Che sta scomparendo Ma noi siamo Chiaramente Il vero comico O comunque Uno che fa questa professione Lo diceva anche Flaiano è necessariamente moralista Non gli sta bene Quello che succede Quindi Noi ci inventiamo Dei mondi possibili Quindi con la fantasia Creiamo delle situazioni Che a noi stanno bene Perché evidentemente Questa realtà Non ci basta O è troppo povera O è troppo compromissoria Mettila come vuoi Però è una realtà Che comunque Non ci basta E mi piace dirlo Perché noi Non facciamo i comici Almeno È una necessità Che in realtà Ti viene da dentro C'è rappresentare Una cosa Diversamente Da quello Che tu pensi Che sia Ecco Noi abbiamo Io ho questa necessità Almeno Bene E come nascono i comici È una domanda difficile Di Gene Giochi Una canzone di Annace Diceva Hai capito Come nascono i comici Io non l'ho capito Ma il comico Lo capisce Beh Però Secondo me C'è una propensione Io quando Giocavo a pallone Non facevo ancora Il comico Però ero molto propenso A fare il cretino Io andavo in campo Con dei baffi finti Magari Non so L'arbitro diceva Avete domande Io gli dicevo Qual è la capitale Dell'Austria E lui E lui rideva Cioè Una volta Ero a Vigolzone C'era C'era il campo Allagato L'arbitro voleva Far la partita Io mi sono seduto Con una sedia Davanti A questa Questa pozzanghera enorme Con una canna da pesca Facevo finta di pescare Per comunicargli Che non si poteva giocare A Castiglione Dell'Estiviere Non avevo voglia Di allenarmi Ho chiuso la squadra Dentro lo spogliatoio A chiave Sono andato A Desenzano A bere Un bicchiere di prosecco Però i piedi erano buoni I piedi erano buoni Numero 10 Dell'Alessandria Ero capace Però ero già Diciamo Uno scherzone Mi piaceva scherzare Mi piaceva ridere Perché Ritengo che il riso L'ironia Sia una forma Eccezionale Per vivere Perché ti consente Di mettere tra parentesi La realtà quotidiana La famosa epochè La sospensione del giudizio E quindi ti consente Anche di vivere Con meno pathos Con meno E' molto meglio Secondo me Abbiamo avuto ospite Gianni Rivera Che ha avuto Il 10 dell'Alessandria E credo anche lei Io sono stato All'Alessandria Numero 10 dell'Alessandria Ma era una squadra seria Serie C Sì sì Io ho detto Dagli estimatori Ero Rivera Della bassa Ma per i denigratori Ero muviola Perché ero un po' lento Quindi c'era Questa dicotomia Da un lato Il piede era molto buono Però d'altro C'era questa lentezza Endemica Che insomma Non mi ha consentito Poi di calcare Dei palcoscenici Anche se ci ha provato Perché poi si dice C'è una battuta un po' greve Che dice Che agli italiani Sostanzialmente Piacciano due cose La seconda è il calcio Lei ha rischiato Di fare una fusione Con la maglia Numero 52 O 54 Gnoccao Col Parma Certo Io volevo Era il periodo Di Simona Ventura Facciamo quelli che è il calcio Era il periodo Di calcio scommesse Così E abbiamo detto Proviamo a Così a stemperare Un po' i toni Allora io andavo A fare i provini Nella società Per fare 5 minuti In Serie A Perché volevo Fare 5 minuti Parma Sassuolo Ho fatto Ho fatto Atalanta Ho fatto Genova Torino Ho fatto Qualunque tipo Di provi Anche Del Piero Si è speso Per ma Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Il calcio Fare 5 minuti In Serie A Il Parma mi ha preso Mi dava lo stipendio Infatti io Ho concorso Al fallimento Del Parma Sono io La causa Del fallimento Del Parma Però non ce l'ho mai fatta Non ce l'ho mai fatta Nel Guastalla Sì Ha giocato Andiamo oltre Quando vuoi Facciamo un oltre 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 Siamo sui sacrifici Una parolona grossa Quali sacrifici Deve scontare oggi Un comico Che si muove In un mondo Tutto in rete Succede un fatto di cronaca Dopo 2 minuti Inondato Il web I siti Di battute Come fa A sopravvivere Un comico Deve avere già Un'idea Originale Sono tempi duri Per il comico Quelli dove su Twitter Dopo 2 minuti Già c'è un boom Di battute Sì però C'è anche da dire Che non è necessario Esprimersi su tutto Cioè voglio dire Comunque Io non è che abbia Sia quei comici Che ha bisogno Di aggredire la realtà E di esprimere A me sinceramente Non me ne frega niente Magari Succede una cosa Io qualche tempo fa Non so se ti ricordi 20 giorni fa 25 giorni fa Di Maio Dei Cinque Stelle È stato ricoverato Per degli accertamenti Io ho postato subito È stato subito dimesso Era solo congiuntivite Perché lui sai benissimo Che non azzecca un congiuntivo E quindi vabbè Certe volte Ti scappa la battuta Così ma non è che vai Alla ricerca Del Hai capito Della cosa Però la concorrenza Dei comici dilettanti Che inondano la rete È alta adesso Sì però voglio dire La concorrenza È giusto che ci sia Perché è giusto Però è giusto anche Che io sono contento Perché ho un mondo mio Lo esprimo Poi chiaramente Continuerò ad esprimere Alla fine Fino a 80 anni Fino a 90 Finché mi sarà consentito Perché mi piace Questo lavoro Mi piace farlo Se poi Il pubblico Mi abbandonerà Ah ma Però io La mia cifra È quella lì Però tiene Nonostante Ma la tiene Sono contento Vado a fare gli spettacoli La gente si diverte Mi dice Che si è divertita E questo qui È il mio lavoro Mi fa piacere I tre minuti televisivi O i monologhi Da one man show Di un'ora e mezza Qual è il tempo No il tempo Deve essere Almeno oltre L'ora Se vuoi fare Cioè se Lo stile comico Si vede nell'ora Ora e in quarto Ora e mezza I tre minuti televisivi Cioè sono un po' Diventati Ricorrenti Voglio dire Chiunque Gli sa fare tre minuti Però è sul lungo Che vedi La caratura Di una persona Ok Allora Oltre Vado Sì C'è una casella Che rappresenta Un cannone Le donne cannone Sono Le donne cannone Sono 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 sorde Sono sorde Sì Ma io ho lavorato A Circo Medrano Sette anni Avevo Proprio questa mansione Andavo a recuperare Le donne cannone Dove la sparavano Perché io stavo fuori Con la macchina Con il motore acceso Quando sentivo Boom Partivo E quindi è stata Una mia professione Ho fatto tante professioni Ma una di queste È stata Circo Medrano Sette anni Allora Siamo sulla ferrovia I treni Da prendere I treni Le stazioni Si tornano Ha mai avuto voglia Genegnocchi Di salire su un treno Andarsene lontano Dove nessuno Lo conosce Aver voglia di Perché la popolarità Chissà Magari ha anche un'altra faccia Che non sempre è gradevole La voglia di salire su un treno Andare nell'anonimato Dove nessuno lo conosce Sì Ma lo faccio spesso Per dire Mi capita A me piace molto andare a Londra Perché E vado a Londra E sto lì Mi piace tantissimo Vedo I gruppi rock preferiti Mi piace C'è una grande vita Ci sono dei club Dove tu Puoi vedere Per dire Dagli XTC Qualunque gruppo Mi piace Gli Uduguru Gli Uduguru Sono australiani Quindi è più difficile Che vengano a Londra No Girano anche loro Però è un po' più difficile Ma esistono ancora Gli Uduguru Esistono ancora Certo Noi abbiamo Un piccolo regalo Gli Uduguru Un piccolo video Qualcosina Gli Uduguru Posso vederli? Sì E verrà proiettato lì Ma no È Gli Uduguru Con David Folkern Che canta Madonna No Ma è fantastico Come avete fatto? Abbiamo fatto Adesso la regia Ce lo manda È Gli Uduguru Gli Uduguru Gli Uduguru Correggio C'erano loro Eravamo in venti Però avevano fatto Un concerto fantastico Sono fantastici Una bella voce Questi È una voce fantastica Ma loro hanno ispirato I desmodronici Sì Noi facciamo Un pezzo loro E' una voce E' una voce Perché il calcio Abbiamo E la musica Io sono Rocchettaro Proprio al midollo Quindi vado a vedere Showcase Mi piace Damati Scopro dei gruppi nuovi Sono patito Per il rock E i desmodronici Era un gruppo Ci sono ancora Noi siamo nati Degli desmodronici Che era il gruppo Che avevo fatto Con mio fratello Charlie Poi abbiamo proseguito Lui L'abbiamo escluso Dal gruppo Perché non era in linea Con la nostra tendenza Gli abbiamo dato Il ben servito Perché lui Era a fare Del pop Un po' fighetto E noi invece Siamo una garage band A tutti gli effetti Infatti proviamo In un garage Proprio Con il controsoffit Con la serranda Quando esce la macchina Perché la macchina E' del padre Del batterista Quando lui Esce con la macchina Noi proviamo Ma Alle feste dell'unità Dove andavate A suonare Alle feste dell'unità Poi facevamo Gli arci Poi facevamo Anche le feste Di piazza E qualunque cosa Poi ci chiamava Anche qualche club privato Solo che lì Dopo 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 la terza bottiglia Di birra Che arrivava E smettevamo Facevamo due pezzi Ma ha visto più feste dell'unità O oratori Genegno Che appartiene Ho visto più feste dell'unità Perché mio padre Era Era Comunista Era del PC E quindi Noi siamo una famiglia Dove io sono l'unico battezzato Perché Mi battezzarono i miei nonni Perché mio padre Era andato al congresso Del partito comunista A Roma E loro Mentre lui era via Mi battezzarono Ma poi Gli altri Non Una storia Peppone Don Camillo Quasi La stessa cosa Peppone Don Camillo Mio padre Era proprio Avevamo in casa I libri di Di Karl Marx Federico Engels Andavamo a vedere I documentari Sulla Russia Il più vecchio Castoro Era russo I più Gli astronauti Migliori Erano russo La cagnetta laica Era il nostro idolo Cioè Uno sfinimento Guarda Noi Quando La Russia Ha battuto l'Italia I mondiali del Cile Noi eravamo a Rimini Abbiamo cominciato A girare con una macchina Con la bandiera russa Finché due bagnini Ci ha menato E ci ha detto Tornate a casa Tornate pure in Russia E quindi È stata una roba Fino allo sfinimento Però poi politicamente Si può dire Che Gianni Gnocchi Ha sostenuto Bersani per esempio Sì Ho sostenuto Perché lo conoscevo Era una brava persona Ho fatto la campagna elettorale Per lui Sì Sì Mi ricordo Poi dopo L'ho un po' Mi è diventato Un po' più Un po' più estraneo Quando ho cominciato A fare queste metafore Quando ho cominciato A dire Il jaguaro Il jaguaro Smacchiare il jaguaro Per me Il politico Deve essere serio Non può andare sotto I riflettori A fare il simpatico Deve essere una persona seria Ma il sostegno A Bersani L'aveva dato come? Pubblicamente? Sì Avevo fatto la campagna elettorale Avevo fatto delle serate Per lui Organizzate in un certo modo Prima di farlo Si è posto Un problema etico Diciamo Il comico Può fare questa cosa O è il comico Patriotta Facendo il comico Io non sono Per l'intellettuale Organico Io ho sostenuto Bersani Perché lo conoscevo Ed era una brava persona Mi sembrava Una brava persona Una persona di idee Che le esprimesse bene Poi dopo Lui è cambiato Molto dopo Però a quel tempo Era una persona Chiaramente attendibile E credibile Comunque guai No dico Per il comico A farsi Irrigimentare O no Secondo me è sbagliatissimo Poi ci sono i comici Che tentano la politica Questo L'abbiamo sotto gli occhi Di tutti Però Il grillo Comunque la politica L'aveva già Negli spettacoli Perché Quando faceva Questi spettacoli Di denuncia Sull'ambiente Era già politico Alla fine Poi La proda È quello lì Se vuoi Certo Allora Il dado E l'eremita Cinque Ti aiuto Uno Due Tre Quattro Cinque Arriviamo Sugli ostacoli Allora Gli ostacoli Tanti ostacoli Per chi In fondo Dico Il comico Fa riflettere Però anche Prende in giro Si fa beffa È bello Anche questo Ogni tanto Dalle persone Le situazioni Possono essere I colleghi Degli studi televisivi Bacconi Con il magma index Che nemmeno la Cina Copierà Ai politici potenti Allora Questo Le ha mai dato Qualche grattacapo Ma sì Qualche grattacapo Sì Perché Succede Che quando Noi abbiamo avuto Con Simone Ventura Quando facevamo Quelli che il calcio Abbiamo avuto Una telefonata In diretta Di Gasparri Perché io Avevo mandato Un servizio Che secondo lui Non era consono Quindi Sono stati Anche interventi A gamba tesa Però Voglio dire Questo Si sa Insomma Si sa Che la politica Influenza E anche pesantemente La televisione Poi Succede Che magari Influenza Talmente tanto Che poi Il comico Si fa uno scrupolo Suo Anche se magari C'è più realista Del rap Però Sicuramente Qualche problema C'è stato E che rapporto C'è con I datori Di lavoro I potenti Della televisione Ha mai Dovuto Smussare Metalmeccanico E parrucchiero Un turbio di sesso E di violenza Poi Anche con Giuseppe Piccioni Cuori al verde Cuori al verde L'hanno mai chiesto Ma hanno I film I cinepanettoni Qualcosa Mi hanno chiesto Neri parenti Ma non mi piaceva Il tipo di film Piccioni È una persona Che stimo E quindi Mi aveva proposto Questa cosa Ero di Ritter Perché mi vedeva Come attore Mi ha fatto piacere E La Wirtmuller Mi ha insegnato Tanto come attore Però il film Era una roba Inguardabile Era inguardabile Era una cosa Che non si poteva vedere Però Lei come regista È bravissima Poi ha azzeccato Tanti film Ma quello no Ma faccio Il film con la Wirtmuller E' uno scazzo Proprio Quello no 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 Però Ti insegna tanto Ma Voilà No ho capito What's my scene No cantano Gli Udo Gurs Qual è la mia scena Qual è la mia scena L'importante è capire Dove andare O dove non andare Ecco Va bene Il teatro Sì Il cinema Meno Lo sente meno Il cinema Se mi chiamassero Per dei ruoli Interessanti Direi assolutamente Sì Perché è un mezzo Che però Se non ti chiamano La sciolista Ron Non l'ha detto Gene No C'è l'Isterol Non l'ha mai detto Ha detto Gene Ma C'è per altre cose Lasciamo stare Allora Abbiamo un minuto 50 secondi per chiudere Vediamo dove E finiamo sui piaceri Che è una bella casella Le piace sempre Il suo lavoro Tantissimo Tantissimo Mi piace Proprio salire Su un palco E dire Delle cretinate E' la cosa Che mi piace di più Poi che lo faccia Non In un club Con 20 persone Che lo faccia davanti A una platea O in televisione E' un'altra cosa Però è la cosa Che farò tutta la vita Bene Grazie Speriamo Grazie a te Grazie a voi Grazie a voi Per essere stati con noi Ci rivediamo la settimana prossima Come sempre Dopo il quotidiano E prima del telegiornale Buona serata Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te